Salve a tutti per le guide di Sode Linux, io sono Francesco Fusillo e Giovanni Caruso stiamo preparando, mettendovi a disposizione, una videoguida che ha due titoli uno, creare utente e ospite personalizzato, qui si vede l'utente ospite ma non è personalizzato l'utente standard, poi Giovanni spiegherà nel dettaglio, utilissimo per le aule informatica o per computer utilizzati da più utenti e penso ai computer delle aule degli insegnanti o computer utilizzati da chi si siede e si siede, poi Giovanni spiegherà meglio e secondo titolo, creare nuovi utenti con diritti differenti sulla stessa macchina sarà una videoguida a più voci, anche domande e risposta e buona attenzione vai Giovanni ecco, buongiorno a tutti, allora, come ha detto Francesco, Sode Linux permette di avere sia utenti, diciamo residenti, che utenti ospiti gli utenti ospiti che cosa sono? se ad esempio clicco sulla sessione ospite e clicco su accedi sono utenti che esistono temporaneamente sulla macchina l'utente ospite è un utente che viene creato e distrutto ogni qualvolta chiunque ne fa accesso e quindi, ad esempio, questa home di questo utente i file che costruisco, che salvo al suo interno vengono creati ci dà la possibilità all'utente di creare dei file di lavorare col sistema senza essere dotati di una password e di una username ma alla fine del lavoro, nel momento in cui si fa il logout i dati vengono distrutti questo serve per due motivi uno è un motivo pratico, dare l'accesso senza dover gestire molti utenti laddove magari si ha bisogno di un accesso temporaneo, ad esempio per consultare internet dall'altro, come amministratore, non ho bisogno di andare a fare poi pulizia delle macchine per togliere eventualmente file che qualche ospite può aver lasciato sulla macchina ad esempio, facciamo finta che l'ospite abbia creato un file con LibreOffice e l'abbia lasciato qua sulla scrivania che cosa succede? se l'utente fa termina la sessione termina come vedete il computer si riporta al suo stato iniziale se clicco su accedi il desktop è stato ripulito ve ne accorgete anche da questo messaggio che arriva ogni volta che fate il login con questo meccanismo e dal fatto che la home di guest cambia sempre un po' questo suffisso prima era un testo leggermente diverso da quello che vediamo adesso e cambia di volta in volta cosa succede quindi? che questa è una modalità molto comoda perché ci semplifica un po' la vita come facciamo però a customizzare la sessione ospite? perché la sessione ospite appare sempre come l'abbiamo vista quindi con questo desktop con il desktop canonico di Linux e le applicazioni al suo interno ma se volessimo ad esempio mettere, fare in modo che sulla scrivania appaiono delle cartelle oppure delle icone qua nel menu come possiamo fare l'unico modo con cui possiamo customizzare quindi realizzare un utente ospite su misura per le nostre esigenze è quello di creare noi un utente che verrà usato come copia dell'utente ospite ovvero un utente ospite persistente che però verrà usato nella sessione ospite per usare le impostazioni al suo interno l'obiettivo qual è? avere un utente che io possa configurare come voglio secondo le esigenze della scuola, della classe, del laboratorio e al contempo avere la possibilità che quando l'utente ospite vero clicca su sessione ospite trovi quelle cartelle che io ho impostato come si fa? allora io intanto accedo devo accedere con l'utente amministratore come sempre nei nostri video l'utente amministratore è scuola una volta che ho fatto l'accesso vado sul menu di studio di linux sistema amministrazione utenti e gruppi clicca e aggiungo un utente l'utente che andò ad aggiungere ad esempio lo chiamo ospite laboratorio prima devo mettere la password che è la password dell'amministratore così posso farlo lo chiamiamo come lo chiamiamo Francesco? laboratorio di solito laboratorio senza di un paio d'anni dobbiamo dire che è una soluzione stabile sicura che ha dato molte soddisfazioni perché chi gestisce i laboratori non ha avuto più problemi di gestire i laboratori cioè i ragazzini usano la macchina la usano come con rispetto e sanno che quella macchina loro non hanno nessun diritto di intervento quando si alzano torna ad essere quello che era imparano a gestire i file poi Giovanni dirà come e diciamo è anche una bella comunicazione educativa tu questa macchina la usi sai che sei ospite rispettela e sappi che tornerà ad essere quello che era prima che tu l'hai usata esatto allora creiamo l'utente laboratorio laboratorio per il fatto che sappiamo che da lì possiamo mettere le mani all'utente ospite in laboratorio esatto ecco nel momento in cui creiamo l'utente laboratorio in laboratorio ci viene chiesta una password qui dobbiamo mettere una password che conosciamo noi amministratori eh sì perché se andrà finita se no i ragazzini esatto se la scoprono vanno a fare quello che gli piace di più cioè modificare il desktop mettere le icone e creare dei pasticci comunicazioni a tempo e così via esatto quindi non mettiamo laboratorio come password a stavolta ma ci mettiamo magari una password io adesso ne metto una che è la mia solita e quindi so che poi questo utente avrà questa password ok e do ok a questo punto abbiamo creato l'utente laboratorio l'utente laboratorio come vedete ha un tipo di account personalizzato che posso cambiare cioè posso ad esempio eh dare che l'utente è un utente desktop o è un amministratore chiaramente non darò amministratore perché non è il caso di dare in mano un guest che è un amministratore ma potrei scegliere ad esempio utente desktop eh se faccio ok eh l'utente desktop è un utente che ha meno privilegi di un amministratore e quindi ed ecco scusa Giovanni troppo il secondo tema della video lezione creare utenti con diritti diversi della macchina ecco sottolineiamo questa cosa quando si crea un utente Giovanni adesso lo sta sottolineando sono due utenti di tipo diverso uno amministra la macchina e posso creare tanti amministratori possono fare quello che vogliono questo tipo di utenti qua come laboratorio adesso Giovanni lo spiega esatto non lo possono fare non lo possono fare è importante rispetto a le versioni di Windows più antiche che richiedevano che tutti gli utenti fossero amministratori per poter effettuare certe operazioni sotto Linux ciò non è vero l'utente amministratore deve essere uno o comunque limitato a chi effettivamente amministra le macchine per tutti gli altri utenti basta l'utente desktop possiamo ecco Giovanni ma cosa fa l'amministratore che non può fare il desktop ad esempio l'amministratore che cosa fa può installare le applicazioni cosa che l'utente desktop non deve fare e questo ci garantisce che i ragazzini non possano gli studenti non possano metterle mani nelle configurazioni di sistema l'utente amministratore può creare dei nuovi utenti e dei nuovi gruppi di utenti è chiaro che questa è un'operazione molto delicata e quindi non deve essere in mano agli altri utenti può ad esempio riconfigurare la rete e quindi tutti i parametri che servono per la connettività cosa che non deve essere non deve andare in mano a uno studente così come ad esempio disattivare o attivare la connessione di rete sono tutte operazioni che se io le tolgo dalla possibilità di farle all'utente desktop mi garantisco di non dover di non dover poi intervenire a magari risolvere delle problematiche che sono state causate per per scherzo o semplicemente per non essere stati accorti o non essere consapevoli da parte dell'utente di quelli che sono le impostazioni della macchina vediamo cosa fa l'utente desktop e poi continuiamo se vado nei permessi posso andare su impostazioni avanzate vedete il laboratorio è un utente desktop la password viene chiesta l'accesso e clicco su impostazioni avanzate se vado su privilegi dell'utente ecco che qua che posso andare a vedere quelli che sono i privilegi dell'utente desktop quelli predefiniti per l'utente desktop e modificare questi privilegi togliendo o mettendo delle spunte ad esempio accedere automaticamente ai dispositivi di memoria esterni questo è importante che ci sia perché l'utente deve potersi collegare scollegare la chiavetta usb la pennina come si dice in gergo per aprire e chiudere file configurare le stampanti che non significa usare le stampanti ma configurarle dal punto di vista dell'amministratore l'utente desktop non deve andare a modificare ad esempio le impostazioni della stampante di rete o della stampante collegata al computer e quindi questo lo lascio così connettere internet usando un modem questo fa un po' sorridere al giorno d'oggi però in questo caso è più o meno importante non ci interessa perché probabilmente non useremo mobile connettere alle reti via cavo alle reti via cavo e senza fili ovvero andare ad abilitare o disabilitare la connessione di rete che si avversa col cavo fisico o il wifi in entrambi i casi questo non deve essere dato all'utente desktop perché? perché non deve disattivarsi la rete per sbaglio inviare e ricevere fax se si ha un modem fax monitorare i registri di sistema questo può essere più o meno utile quindi si può anche lasciare share files with a local network ovvero condividere file con la rete locale se si usa ad esempio la connessione le cartelle condivise ma anche in questo caso se l'amministratore ha già predisposto tutto l'utente desktop non deve metterci le mani usare gli scanner questo potrebbe aver senso flegarlo se alla macchina fosse collegato uno scanner così come anche usare i dispositivi audio nel senso di riconfigurare i dispositivi audio i dispositivi video usare i modem usare l'unità nastro che oggettivamente probabilmente non dovrete usare usare i cd-rom e se esistono ancora usare l'unità flop una domanda Giovanni se io sono in una in una supponiamo in un'aula informatica e ho 50 utenti desktop li posso creare cioè qual è il limite di utenti che posso creare in una macchina non ci sono limiti l'unico limite è legato allo spazio che posso allocare ai singoli computer quindi ne posso creare quanti voglio quanti voglio non ci sono limiti dal punto di vista numerici forse 10.000 ecco forse un limite 10.000 ma non credo che ci tocca non è il nostro caso bene allora andiamo avanti con la creazione dell'utente ospite personalizzato ok a questo punto va bene mi richiede la password perché ho modificato i privilegi la modifico autentica triccate ed ecco che il mio utente laboratorio questo ricordiamo l'utente laboratorio è un utente che serve esclusivamente a come si dice come dicono in gergo gli informatici è un template cioè è una copia un utente che deve essere usato per ricreare l'utente ospite ok quindi questo deve essere importante ok a questo punto prima di passare andiamo al passo successivo che prevede di digitare alcuni comandi la riga di comando quindi devo andare nei strumenti di sistema terminale aprire il terminale e dare questo questo comando sudo spazio sudo è il comando che permette all'utente amministratore di fare delle operazioni di amministratore altrimenti anche lui si comporta come un utente normale apt meno get tutto attaccato spazio install spazio slick scritto sli ck trattino grid quindi gre e t e r spazio l light come luce dm light spazio light dm light dm settings possiamo aiutare aprire la finestra così si così aumentiamo un po' più in grande aumentiamo anche un po' più in grande aumenta ingrandimento ecco così chi vuole può farsi uno screenshot eccoli così bello grande app get install apt mi raccomando spazio dopo get spazio e ogni volta che c'è una parola diversa spazio perché sono programmi differenti e poi l'ultimo app armor ok dato questo mi viene richiesta la solita pasta dell'amministratore la metto anche se non appare è stata inserita e do invio a questo punto se è stato aggiornato la versione di linux probabilmente non è necessario fare altro e a questo punto non c'è bisogno di dare altre cose ok rimuoviamo diamo questo comando ancora sudo app spazio apt get trattino get spazio remove spazio mdm che è un altro programma se anche questo va tutto a buon fine praticamente se esiste questo programma lo disinstalla altrimenti no cosa stiamo facendo giusto per spiegarci stiamo installando una cosa che fortunatamente dopo gli aggiornamenti su di linux si installa già che è il gestore grafico della login sotto linux ne esistono vari quello che di solito arriva in dotazione è mdm ma se e quindi con questo comando noi lo rimuoviamo ma se non se andiamo ad installare lo facciamo al passo prima lightdm che è un altro che è un altro gestore che ci permette di avere l'utente ospite perché la differenza tra l'idm ed mdm è che mdm non permette la sessione ospite ok e questo è il primo passaggio a questo punto esco chiudo questa finestra chiudo anche questo e do un riavvio al pc riarresta e riavvia il mio computer si riavvia ecco resta veramente poco poi perché ci sono altri due comandi sul dare l'indirizzo di partenza esatto ora facciamo questo passaggio che è necessario perché così almeno evitiamo di rimanere con delle configurazioni poco pulite e procediamo a fare che cosa a configurare appena l'utente appena abbiamo finito di riavviare il computer con calma di configurare l'utente l'utente laboratorio ecco si deve dire che questa è una manovra diciamo non da neofiti nel senso che chi gestirà dei computer per gli altri con questo sistema si garantirà di recrealizzare dei computer che non hanno bisogno di manutenzione cioè restano puliti perché l'ospite entra e lo lascia stare lo usa fa tutto quello che deve fare salva stampa va in internet aggiorna i suoi file va sul cloud si guarda la posta fa assolutamente tutto però non si può permettere non ha la possibilità di fare nessun intervento però è un'azione da amministratore ecco non si spaventino i neofiti vadano oltre esatto questo è un livello un pochino più alto e soprattutto molto tecnico ecco una volta che riavviamo ora io ho impostato sul mio utente scuola l'accesso automatico ma di norma c'è l'accesso con username e password che cosa succede come vedete adesso ho tre utenti scuola l'ospite e il laboratorio vado sul laboratorio metto la password segretissima per l'utente laboratorio e qua faccio tutte quelle configurazioni che voglio che l'utente ospite erediti ok ad esempio non so voglio mettere per semplificare la vita ai miei utenti l'icona del browser sull'estop piuttosto che aggiungi alla scrivania o anche mettere un desktop diverso con delle informazioni ad esempio sul desktop potrebbe esserci abbiamo il collegio dei docenti la settimana prossima nella cartella x y trovate i moduli per gli scrutini oppure altre cose ecco di carattere generale ad esempio non so mettiamo che ecco non so potrei voler cambiare lo sfondo ora lo cambio così per far capire anche che abbiamo cambiato utente e metto questo fiore qua giusto per fare una prova e ad esempio potrei voler memorizzare nel browser principale ad esempio non so l'indirizzo del sito della scuola piuttosto che l'indirizzo del sistema per l'account per l'accesso con password al wifi ad esempio da un portatile giusto per dire che si può personalizzare esatto ad esempio io voglio mettere come home page di linux quindi certo di linux vado qua vediamo ad esempio di nel caso volessimo mettere la home page di linux in questo caso o del sito della scuola possiamo configurare il browser andando sull'indirizzo del sito cliccando su copia quindi sui puntini impostazioni nelle impostazioni andiamo nella mostra pulsante home che è disabilitato per default lo clicco e qui che è vuoto clicco su sodi linux itdcnr8 a questo punto posso dire posso chiudere perché è già salvato posso chiudere e automaticamente mi appare l'icona del pulsante home e ogni volta che clicco qua ritorno sul sito principale che potrebbe essere questo o un'altra pagina di interesse questo ad esempio per far vedere alcune impostazioni che si possono nel caso di una scuola potrebbe essere il sito del miuro o il sito della scuola così gli insegnanti accedono subito alle aree personali per esempio esatto quindi cerco il miur lo aggiungo ad esempio lo metto nei preferiti e gli dico di metter ad esempio nella barra dei preferiti fine e da qua vi faccio vedere che posso mostrare la barra dei preferiti eccola qua insomma in poche parole si possono modificare le impostazioni a piacere secondo le esigenze che ci sono esatto ok a questo punto questo è il nostro utente laboratorio quindi è il nostro utente master che useremo per creare l'utente ospite vediamo adesso come continuare abbiamo poi alcune alcune istruzioni che mostreremo alla fine su come che riassumono tutto quello che abbiamo fatto fino adesso termino la sessione dell'utente laboratorio termina e ritorno sull'utente amministratore il nostro utente scuola in questo momento l'utente ospite e l'utente laboratorio non sono ancora sincronizzati quindi quello che io faccio sull'utente laboratorio rimane solo sull'utente laboratorio per fare in modo che i due si sincronizzino diciamo così abbiamo bisogno di fare ancora due comandi dalla riga di comando quindi apro il mio terminale e vado a dare questo comando aumento l'ingrandimento così si vedrà meglio eccolo lì ancora un po' e vado a dare questo comando sudo spazio mkdir spazio slash etc slash guest session se incominciate a questo è un trucco per gli amministratori se quando siete in terminale incominciate a scrivere i nomi delle cartelle o di un file e date tab sulla tastiera linux vi cercherà di completare in modo automatico la parola in questo caso siamo fortunati etc guest session sono due parole che sono solo una volta e quindi le complete in automatico a questo punto do invio viene chiesta la mia password e va bene in questo caso lui mi dice impossibile creare directory etc guest session il file è già presente nessun problema non ci sono problemi anche se il file è presente do un comando che è ls spazio meno alph spazio etc guest session e ok è una cartella che è vuota questa è una cartella vuota questa cartella dobbiamo riempirla con le informazioni dell'utente laboratorio come facciamo do un altro comando sudo ln spazio ln spazio meno s slash home slash e qua mi faccio aiutare dal 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 tab sulla tastiera se do tab due volte lui mi fa vedere gli utenti vedo laboratorio e scuola metto la l do un tab e metto laboratorio spazio slash etc guest session trattino session e qui scrivo dopo la slash s k e l scel e do invio se a questo punto gli scrivo il comando di prima slash ls spazio ln ph spazio etc slash etc slash guest session quello che devo vedere è che c'è un diciamo un file una cartella che si chiama scale che punta alla cartella home laboratorio questo è importante perché sostanzialmente è il meccanismo che permette di sincronizzare le impostazioni che sono dell'utente laboratorio dentro l'utente ospite che sono perché ogni volta che l'utente guest ospite entra copia le informazioni che sono in questa cartella e le mette in questa cartella scale che è quella che viene usata poi per dall'utente quando accede a questo punto il mio lavoro è terminato e io posso fare subito una prova clicco termino la sessione dell'utente scuola termino la sessione e vado sull'utente ospite faccio click e accedi se tutto ha funzionato correttamente eccolo qui l'utente guest assomiglia perfettamente all'utente laboratorio c'è il browser c'è lo sfondo con i fiori e se apro il browser nella home vado sul sito di Linux e nella barra dei preferiti o i preferiti che avevo aggiunto cioè la home del mirror in questo caso questo ecco per farvi capire che è possibile creare questo utente che questo utente in questo caso le cose che faccio qua è importante da dire non vanno ad impattare sull'utente laboratorio quindi se crea un file qui il file rimane qui e viene distrutto quando l'utente esce l'utente laboratorio serve solo come copia che viene fatta al volo quando l'utente guest fa il suo accesso vi voglio mostrare una cosa che abbiamo scritto con Francesco che è questo documento nel quale riassumiamo e che mettiamo poi con un link in download tutti questi passi ho segnalato con in giallo quelli che sono i momenti critici quindi quelli che sono soprattutto i comandi da dare quindi se ne diamo ad esempio anche questo e questo qua e li sottolineiamo in giallo così si vedono li ripercorriamo un attimo ancora insieme il primo passo è creare un utente desktop io l'abbiamo chiamato laboratorio potete chiamarlo come volete l'importante che come lo chiamate qua qua deve essere usata la stessa parola io ho usato laboratorio durante quando l'ho creato e lo uso qui perché il suo utente ha una cartella home che si chiama con il nome dell'utente se l'avessi chiamato Giovanni per fare un esempio qui all'ultimo in questo comando qua avrei dovuto usare Giovanni perché altrimenti non funziona poi il meccanismo di collegamento che vi ho mostrato che vi abbiamo mostrato facciamo il primo passo creiamo l'utente con il nome in tutto in minuscolo così non ci sbagliamo con il secondo passo ritorniamo sull'utente amministratore e cliccando nel terminale da strumenti terminale do questo comando do questi comandi se apparisse la scelta tra lightdm o mdm vado a selezionare lightdm nel nostro video non è successo perché abbiamo fatto l'aggiornamento del sistema quindi questo passaggio è già stato risolto se avete una versione di studio di linux appena installata senza aggiornamenti questo passaggio potrebbe essere necessario e confermo tutto premendo il tasto invio successivamente sempre nel terminale digito questo comando sempre se mi appare la scelta tra l'idm o mdm riavvio il computer come terzo passo come quarto passo ma anche come sesto passo perché questo passo è il quarto è l'unico che si può che si può ripetere tante volte quante si vuole personalizzo l'utente al laboratorio ma posso anche farlo diventare un sesto passo non è necessario farlo subito come quinto passo accedo nuovamente come amministratore quindi ho riavviato il computer se ho voluto ho già personalizzato l'utente al laboratorio se no lo farò dopo come quinto passo accedo nuovamente come amministratore di sistema e digito nel terminale questi due comandi make sudo make dir etc get session sudo lns ln spazio meno s slash home slash laboratorio etc get session scale soprattutto questo è molto importante perché permette di creare il link che che è necessario il primo comando abbiamo visto che non è propriamente necessario ma diamolo comunque per sicurezza tanto non costa nulla il secondo invece è quello veramente importante finito questo abbiamo terminato la procedura e ora l'utente ospite può accedere trovando le modifiche che faremo all'utente laboratorio e quindi i due da adesso in poi sono sincronizzati francesco dimenticato qualcosa no direi che chi vuole fare delle prove è meglio che lo faccia su delle macchine di prova non succede niente casomai l'utente ospite non funziona come abbiamo come è successo a me le prime volte a Giovanni riescono sempre a me succede che riescono una volta ogni due però ecco facendo due tre prove uno prende la mano e si riesce si organizza la macchina come vuole e la mette a disposizione dei colleghi o dei ragazzini secondo le indicazioni che ha cioè noi abbiamo pensato a questa soluzione veramente per semplificare la vita di chi gestisce le aule informatica e i pc pubblici diciamo è servito per una biblioteca è servito per varie aule informatica quindi aiuta molto è una guida un po' lunga però diciamo è una guida d'amministrazione chi si mette in questo territorio è perché vuole imparare a gestire e ad amministrare non solo la propria macchina ma anche le macchine degli altri quindi io direi buona sperimentazione per le guide di Sodilinox Giovanni Caruso e Francesco Cusillo vi salutano ciao a tutti buona sperimentazione a tutti Grazie.